Siamo arrivati qui a Giovenso con i guardi a parchi del parco di Salbeltra, Alpicozzi. Adesso ci racconta la storia di questo sciolo, il signore che l'ha recuperato in casa sua. Raccontaci, com'è andata? Io mi chiamo Stefano Ponza, siamo qua a Giovenso e abbiamo incominciato a sentire dei rumori all'interno della canna fumaria. Abbiamo chiamato l'amministratore del condominio che ha portato le persone per cercare di salvarlo. Durante il salvataggio l'assiolo è saltato all'interno dell'intercapenie del muro e noi l'abbiamo sentito grattare il muro per due giorni. Alla fine del secondo giorno ci siamo detti se domani mattina è ancora vivo lo tiriamo fuori perché ci faceva molta pena lì dentro questa povera bestia. E la mattina ci siamo svegliati tutti presto, eravamo lì alle 7, a parte tu è vero? Alle 7 ci siamo svegliati e abbiamo iniziato a bucare il muro perché l'abbiamo sentito. E effettivamente l'abbiamo ritrovato abbastanza facilmente perché era finito in fondo a questo intercapedine e di lì non poteva più muoversi e quindi gli abbiamo salvato la vita. Grazie, avete fatto una bella cosa e adesso noi lo liberiamo di nuovo perché è un adulto e quindi era solo questione di liberarlo dal brutto posto dove sarà cacciato. Grazie alla vostra sensibilità. È già bello che è vivace, è già più vivace. Perfetto. Salutatelo bimbi. Ciao, ciao. Ciao, buona fortuna. Buona fortuna. Ciao, gugu. Luisa, vuoi venire anche te? No, no. Vai anche te, buon mio. Lo sentivate di notte qui? Sì? Allora. È già andato. Viva! Ero, grazie a tutti. Buona fortuna. Ero. Grazie.